1929-2019 Il 5 e 6 ottobre ad Almeno San Salvatore il gruppo degli Alpini festeggerà i loro primi 90 anni dalla loro fondazione. È un traguardo importantissimo e significativo anche perché a luglio l'Associazione Nazionale ha festeggiato a Milano il centenario dalla loro fondazione, avvenuta esattamente nel 1919. Sarà una grande festa, autenticamente popolare, che porterà ad Almeno tanta allegria ma anche i migliori valori della nostra comunità. Vi invito tutti quanti a partecipare con i vostri figli, a passare così due giornate con loro per far sentire il nostro grazie verso l'importante lavoro che svolgono e mantenere così viva una parte importante della storia del nostro paese. E anche grazie agli Alpini se oggi possiamo vivere in libertà e democrazia. Sarà una grande festa, autenticamente popolare, che porterà ad Almeno tanta allegria, ma anche i migliori valori della nostra comunità. Sì, valori, un tema che può apparire superfluo, scontato, ma non è così. Perché in una società che li rifiuta, quando non li deride, è necessario riproporli, soprattutto se alla parola valori aggiungiamo un aggettivo fondamentale, alpini. Ed è proprio questa espressione, valori alpini, a cui tutti dobbiamo ispirarci. Sono l'essenza stessa di tradizioni, educazione, dignità, gratuità e di forza, che fa ciò che sono stati e sono gli alpini. Amici almenesi e membri del gruppo di Lemine News, guardate le nostre pagine per scoprire gli eventi di questi due fantastici giorni. E vi mando a tutti quanti, virtualmente, un caro saluto alpini. Grazie. Grazie.